ma noi stiamo venendo a prendervi e vabbè dove si va a trovare stiamo venendo zia vi ha detto le 9 stiamo venendo è finita è finita è finita guarda questa va buona ma non è ok 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 perché non va buona per me oh che 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 merda vado no no sono ah 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 ah